Ma l'hai vista a Napoli, si vede, te la sei mai sentita vicino? C'è la camorra, c'è la camorra e molte volte uno è abituato a vedere la camorra come nei film, padrino, gomorra e tutto, ma la camorra è una cosa molto più complessa, però ci sta, è evidente. Per me la cosa del disastro ambientale che è stato creato nelle terre del mio paese, da Acerra. Io abito nel triangolo della morte, perché praticamente il triangolo della morte è quello che fa la provincia di Caserta, Acerra, Secondigliano, non là al centro, noi siamo proprio lì e ho visto gente morire, genitori, mamma e papà morire di cancro, perché chissà quali fanghi speciali, rifiuti speciali sono stati sepolti lì. Ma Napoli secondo te come la raccontano? Quando la vedi raccontata senti che le somiglia, ti sembra che la venga un po' macchiettizzata? No, allora il fatto è uno, è che ci sono delle strutture, parliamo del mio paese, che non sono mai state portate a termine. Un asilo, una scuola mi sembra che nel lontano 93-94 noi andavamo a giocare a calcio e c'era questa scuola, e si si qua mo ci deve venire l'asilo, andiamo a giocare nel vecchio asilo, ora siamo nel 2021, è ancora così, non c'è mai niente.